Io mi chiamo Dennis, sono motociclista come i miei amici, ho vinto quattro gare. Io preferisco un pilota aggressivo che poi capisca che uno che gestisce è... capito. Io ho paura degli altri piloti perché ho paura che gli facciano male. Lo che ho sempre pensato io è quello di portarmi a casa il figlio sale salvo, poi dopo il risultato è piegato lui. Ma io penso che alla fine siamo tutti lì per vincere perché comunque tutti i genitori vorrebbero vedere il proprio figlio sul gradino più alto del podio con un sorriso così.